Più che altro il problema è la paura di avere una persona che non è in equilibrio, che giri qui intorno, insomma quella è la paura più grossa. Brutto risveglio questa mattina per alcuni residenti in via Travia fanno all'incrocio con via della Fornace. Un ventenne originario del Bali, intorno alle 5.30, ha messo a segno un atto vandalico colpendo 5 auto parcheggiate con una grossa chiave inglese del peso di circa 3 kg. Il malvivente, che ha agito da solo, si è poi allontanato a piedi in direzione fenile. I residenti hanno subito allertato i carabinieri che dopo aver indagato sull'accaduto hanno individuato e arrestato il giovane. Probabilmente cominciando dalla macchina, dalla Golf, a sfasciare tutti i vetri delle auto. Chi ne ha preso? 5, compresa la mia, forse la mia ha meno problemi, ma alcune ha distrutto veramente tutto. Io adesso devo andare a fare la denuncia ai carabinieri, mi è stato detto, e poi adesso con il problema degli spostamenti capire un attimo come è possibile andare a cercare appunto richiedere informazioni online e poi vediamo in giro per i carrozzieri come risolvere. Non tanto il danno materiale, perché per fortuna per me è poco, ma per altri è un cospicuo. Sapere che insomma c'è gente in giro che non è in equilibrio. È stato un gesto di pura follia quello compiuto dal ragazzo, poi il risultato senza fissa dimora è irregolare sullo Stato italiano. A lei che cosa hanno distrutto? È i vetri, l'1-8 e la parte di là sinistra, perché io ce l'avevo parcheggiata lì, attaccata alla cancellata, la parte sinistra era quella esposta. Le posso chiedere se lei lavora, questa mattina comunque era in casa, quindi è riuscita bene o male a assistere un po'? No, oggi non lavoravo, fortunatamente, perché... Eh, infatti ci vuole tanto tempo. Non so dove mettere le mani, sinceramente, ho raccolto già un secchio di vetri. Oltre alle auto, il ragazzo aveva preso di mira il distributore automatico di sigarette nel vicino Tabacchi. Si è piegato lo schermo, hanno rotto un po' di pulsanti e... Sì, comunque hanno compromesso la funzionalità. È da sistemare, dunque? Sì, sicuramente. Adesso ho messo lo scotch per evitare che entri l'acqua se dovesse piovere e funziona ancora, qualcosa funziona e andiamo avanti così anche per questo periodo. Questa lavora, quindi ci aiuta. E si sa quantificare il danno? Non ho la più palla di idea, potrebbe essere un paio di cento euro come mille euro su queste cose, è molto difficile. Magari bisogna cambiare tutto il pannello e si parla di mille, mille e cinquecento euro. Si è accorto quando è arrivato al lavoro? Sì, questa mattina alle nove, alle otto e mezza sono arrivato. Pensavo che avessero fatto solo questo di danno, quindi ho detto vabbè, ho chiamato l'assicuratore. Poi invece mi hanno chiamato i signori, mi hanno detto che avevano visto, comunque aveva dato due, tre botte con la spranga anche qua. Però io danni grossi diciamo non l'ho avuto, all'interno è tutto a posto, i soldi c'erano, quindi è andata bene per come è andata. Dopo l'immediata attività investigativa, i carabinieri di Fanno hanno trovato il giovane in un casolare abbandonato, in pessime condizioni igienico-sanitarie, situato in località Belgatto, poco distante dal luogo dell'atto vandalico. Alla vista dei militari, il ventenne in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta a probabili disturbi mentali, senza alcun motivo ha aggredito i carabinieri con lo stesso Arnese che aveva utilizzato per colpire le auto. Poi ha lanciato verso le forze dell'ordine una filettatrice in ferro di circa un chilo. I carabinieri, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo e a evitare il peggio. Tre di loro però hanno riportato lesioni non gravi. L'extracomunitario invece è stato prima visitato dai sanitari, poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato a reparto di psichiatria dell'ospedale di Pesaro. Dovrà rispondere dei danneggiamenti delle autovetture e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Grazie.